onda onda sta cercando la lucertola è vero è scappata onda ciao ciao bella che bei occhi che bei occhi fatti vedere belli questi occhi aspetta devi fare un bicellino Sara ti puoi mettere dall'altro lato? eh dall'altro lato rispetto a lei ok sta ancora pensando alla lucertola la sta cercando sicuramente ah no sta là guarda come sta ancora faccio una cosa alla lucertola ecco una cosa alla lucertola fantastica onda sta qua onda guarda quindi non sa dove guardare cosa le vogliamo mettere per natale che scegliamo chi c'è ci sono tutte queste lucertole è vero la ballina la ballina onda cincina guarda come sei bella aspetta volevo vedere se gioca con la ballina prima la stava prendendo prova di nuovo a muoverla onda guarda onda onda ok no una lucertola Grazie a tutti